Non è che mi avete fregato con questa porzione di dessert? Ci abbiamo provato effettivamente, no, 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 questo è solo per abituare la bocca al dolce, per addolcire le papille gustative prima del dessert in attento. Ah, quindi un aperitivo... Perfetto, chiamiamolo così, un aperitivo per il dolce. Perfetto. Un pre-dessert, una mousse di cioccolato utilizzando un crudo di cioccolato che è il Chihuahua di Amadei, un premiato cioccolatiere di Ponte d'Era, una mousse compatta, fredda, accompagnata con dello yogurt e un croccante di cioccolato. Senti, e su un dolce così cosa ci beviamo? Sul cioccolato l'abbinamento è sempre difficile, però mi riservo un asso nella manica, un Pedro Ximenez. Vino spagnolo fatto con uva di, appunto, Pedro Ximenez nel sud di Andalusia, è uno share a tutti gli effetti, uva appassita, vent'anni di invecchiamento perpezzo, solera e criadera, vino caramelloso, denso, quasi sciropposo, sentore di cioccolato, di vaniglia, quasi anche di liquirizia, che sul cioccolato è forse il più indicato. Senti, a che temperatura me lo porti? Questo si serve a temperatura ambiente. Perfetto, allora, io intanto do un assaggio, te lo vai a prendere in cantina, io ti aspetto, ciao, grazie. Grazie.